È ricoverata in gravissime condizioni presso il reparto di rianimazione pediatrica dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, la bambina di appena un anno precipitata nel pomeriggio di ieri dal secondo piano di uno stabile situato in via Aldomoro al Civico 3 a Sondrio. La disgrazia è intorno alle 19.15 quando è giunta la chiamata di soccorso al 112. La piccola è precipitata dal secondo piano dove risiede assieme alla madre e al padre, entrambi di origini africane, cadendo rovinosamente sul ballatoio del balcone del primo piano. Un volo di poco meno di tre metri, l'impatto del quale violentissimo è stato comunque attutito grazie alla relativa altezza che separa i due piani del palazzo, ma la bimba ha comunque riportato traumi molto gravi. Immediatamente giunti sul luogo della sciagura un'ambulanza, un'auto medica, due pattuglie della polizia ed una dei carabinieri, assieme ad altre due auto civetta della squadra speciale. La bambina è stata immediatamente trasportata verso l'ospedale del capoluogo, oltre alla piccola trasportata a bordo di un'altra ambulanza anche la mamma della vittima, probabilmente rimasta coinvolta in qualche maniera nella disgrazia o forse sotto shock per quanto accaduto. In tarda serata, il volo verso l'ospedale bergamasco. Da quanto testimoniato da alcuni vicini ai nostri microfoni, sembrerebbe, ma il condizionale è d'obbligo, che già due giorni fa fossero state sentite in maniera chiara delle urla provenire dall'appartamento in cui la famiglia abita, forse a causa di un litigio tra i genitori della bambina. Le indagini su quanto accaduto sono condotte dalla procura e dagli agenti della questura di Sondrio. Tutte le ipotesi sono attualmente al vaglio degli inquirenti, dall'incidente domestico ad un caso di disattenzione della madre o, ancor peggio, ad un atto non accidentale. Ipotesi quest'ultima che ci auguriamo possa rimanere infondata.